Sono cinque le persone arrestate in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere dalla DIA Etnea che ha permesso di sgominare un'articolazione del clan Madonia Catania che operava in collegamento anche a Palermo e Caltanissetta. L'elemento di spicco è considerato dagli investigatori Lucio Tusa, 48 anni, figlio di una sorella delle boss Giuseppe P. Du Madonia e fratello del genero di Leonardo Greco, vecchio uomo d'onore di Bagheria. È ritenuto l'uomo di collegamento di Cosa Nostra tra Palermo, Caltanissetta e Catania dove ha un altro rapporto familiare importante e fidanzato della nipote di Angelo Santa Paola il boss ucciso carbonizzato nelle Catanese. Secondo quanto ricostruito dalla DIA di Catania Tusa otteneva ingenti introiti dal pagamento di somme di denaro da cantieri edili, dall'acquisizione di lavori e la costruzione di un centro commerciale fuori dalla provincia etnea con movimento terra, posa di infissi e allestimento di impianti elettrici. Per eludere il controllo degli investigatori si utilizzava anche il sistema dei pizzini per comunicare con i propri uomini. Tra questi tre degli altri arrestati accusati di associazione mafiosa. Giuseppe Ardizzone, un imprenditore di 47 anni incensurato ritenuto un prestanome di Tusa, Gaetano Ursino di 40 anni incensurato, il cui padre è ritenuto essere stato un fiancheggiatore della latitanza di Piddu Madunia e Biagio Finocchiaro di 38 anni indicato come il factotum e autista di Tusa. A un quinto arrestato, Giuseppe Faro di 38 anni è contestato lo spaccio di stupefacenti. E ha sconto un ruolo di collegamento, come abbiamo già detto, tra le organizzazioni soprattutto criminali sempre di Cosa Nostra legate all'area catanese con quella palermitana e anche con quella di Caltanissetto. Le attività sono quelle tipicamente strumentali e satellite del delitto previsto dal codice penale del 416 bis, cioè quello di associazione di tipo mafioso. Quindi abbiamo parlato già che sono state fatte delle contestazioni anche in ordine alla detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, le contestazioni fittizie, quindi il discorso di trasferire fraudulentamente valori acquisiti illecitamente dalle organizzazioni ritengo che sia un ruolo piuttosto importante.